Grazie a queste immagini in bianco e nero girate da vari cineamatori, compreso anche il dottor Scarsi, noi oggi siamo in compagnia della dottoressa Capurro che ha gestito per tanti anni l'altra farmacia di Vado, Vado Ligoro è un piccolo paese dove il farmacista era un po' come il sindaco, il maresciallo dei carabinieri e il prete e il medico e quindi conosceva tutta la popolazione, ma la medicina facendo progressi ha cambiato anche il modo di svolgere il mestiere di farmacista, com'è stato questo cambiamento dagli anni 50? In male, secondo me un cambiamento in male perché prima la farmacia aveva un significato ben preciso di distribuzione del farmaco da parte di una persona, da un professionista. Adesso purtroppo con l'evoluzione del commercio si è aperto alla commercializzazione di tutto ed è il farmaco è diventato non più un farmaco con F maiuscola però un oggetto come può essere un oggetto di un grande magazzino. È cambiata completamente anche la legislazione e la legislazione non è cambiata in bene secondo me perché il numero delle farmacie prima aveva un senso ben preciso in quanto che era secondo il numero delle persone presenti nel territorio, ogni paese aveva la sua farmacia, ogni piccolo centro aveva la farmacia che se non era sufficientemente grande che permettesse la vita di una persona interveniva lo Stato che aiutava in modo che tutta la popolazione del territorio italiano, tutta, aveva la possibilità di avere a disposizione la farmacia e un farmaco. c'è aumentato il desiderio di fare quattrini e si è dimenticato quella che è la vera professione del farmacista. Nel campo della farmacologia ci sono stati dei risultati notevoli per cui il lavoro che faceva il farmacista nel retro ha perso un pochettino quello che era il valore di un tempo perché una volta non c'erano e lo preparava il farmacista e adesso invece l'industria riesce a sopperire a tutti i desideri dei medici.